Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale, oggi video makeup tutorial e sarà l'ultimo video prima che io parta per le vacanze quindi noi poi ci rivedremo a fine mese, inizio settembre, sarò super carica, non tanto abbronzata ma questo già lo sapete però non volevo lasciarvi con come ultimo video il video della settimana scorsa che era veramente molto sbagliato e come potete vedere sono cambiate tante cose, ci ho messo tanto tempo, ho chiesto aiuto a molte persone insomma ho passato sbagliati pomeriggi, weekend eccetera, cercare di settare la nuova videocamera forse adesso va meglio, secondo me va molto molto meglio il makeup di oggi sarà con la palette Natasha Denona, la Lila Lila palette che ha dei colori stupendi guardate che meraviglia, quindi ragazzi sicuramente andremo ad utilizzare, tipo guardate questo viola qui faremo un bel makeup, un bello smoky su questi toni qui ero indecisa tra questa e la Sunrise, si chiama così, Sunrise palette però quella lì, che è questa, la faccio vedere eccola qui, l'avrete vista ovunque, la stanno usando tutti perché ragazzi è qualcosa, uh, quella ring light di spettacolare, guardate che colori meravigliosi però insomma di toni caldi ne vediamo già tantissimi quindi ho deciso di salutare, salutarvi facendo un bel makeup con dei toni più freddi allora mi metto le forciuine perché proprio non riesco a stare con i capelli ormai dico sempre le stesse cose come un genitore, come una vecchia allora ho già applicato il primer su tutta la palpebra e ho applicato il primer di Fenty non ho proprio idea di che cosa farò sicuramente però voglio usare questo sono troppo noiosa, però è troppo bello ragazzi questo colore è stupendo però siccome sento la palpebra un po' appiccicosa la opacizzo con questo ombretto qui di MAC non mi ricordo come si chiama Wedge, brulee e vabbè così è proprio giusto per opacizzare un attimo la sentivo un po' incollata e ho un po' paura che mi faccia macchia quindi così almeno la vado ad asciugare poi prendo questo colore qua e con un pennello da sfumatura lo applico un pochino nella piega dell'occhio non so se avete notato però ho preso proprio poco prodotto su un pennello da sfumatura e guardate il payoff cioè sti ombretti hanno una qualità pazzesca scrivono scrivono e voi direte con quello che costano ci mancherebbe anche che non scrivono senza base senza niente senza base grassa intendo prendo il colore quello che ho visto per primo ossia questo viola qui il payoff è mostruoso ragazzi perché di solito per ottenere un come si dice una concentrazione di pigmento così dovete andare su una base cremosa quindi un matitone viola e sopra ci mettete questo difficilmente un ombretto shimmer ha questo payoff da solo c'è un po' di fallout riuscite a capirlo succede nel senso niente di grave io prendo questo qua e sto proprio molto leggera lo spolvero via tac come se non fosse successo niente se andate così rischiate che la pressione che fate sul pennello attacchi il pigmento alla vostra base se siete leggeri proprio allora dovresti farcela in pratica il colore che ho messo prima è servito poco o niente però non sapevo ancora che cosa avrei fatto capito quindi ho detto vabbè intanto andiamo con un colore di transizione proprio comunque ho sfumato con un pennello pulito e voglio mettere questo qui bagnato al centro della palpebra sembra essere un duo chrome anzi prima lo metto con le dita ah gli da giusto un po' di di sfumatura prugna non cambia poi tanto allora sai cosa facciamo vado sopra di nuovo con questo e poi con questo qua che prendo così con le dita provo ad andare qui uh che bello we like questo ha decisamente più senso prendo il pennello pulito con cui ho sfumato il viola e siccome vedo ancora un pochino del colore di transizione riprendo il viola e lo sfumo al centro dell'occhio bagnato mettiamo questo qui vedete che fa proprio un effetto luce super top qua mi sono anche macchiata perché avevo le mani sporche degli swatch ho fatto così vabbè però tanto andiamo belle larghe sotto quindi metto un po' di matita sotto che mi farà da base la sfumo e poi riprendo il viola e lo picchietto sotto guardate ragazzi qua capite bene quando vi parlo di base grassa o non base grassa anche se ho utilizzato una base grassa nera e anche se il pigmento l'ombretto di per sé è molto pigmentato guardate la differenza tra sopra e sotto se avessi avuto sotto una base grassa quindi un matitone dello stesso colore dell'ombretto sarebbe esploso tutto quanto che è la cosa che generalmente faccio io di solito però volevo provare in purezza questa palette e sono veramente colpita il trucco è carino non è intenso come lo vorrei io ma il pigmento c'è ragazzi io raramente vedo che ne so un viola shimmer che senza base ha questa scrivenza qui siccome all'interno della palette non vedo neri non c'è nulla di colori scuri e cose di questo genere prendo un po' di nero e vado ad intensificare molto 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 questo make up guardate già che differenza già meglio adesso metto un po' di matita nera all'interno dell'occhio e ora ovviamente faccio l'eyeliner ricordatevi ho un bellissimo tutorial super 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 esplicativo almeno così mi avete detto voi la vostra recensione su quel tutorial mi ha aiutato un sacco in papino ve lo lascio in alto da qualche parte adesso piego le ciglia e applico il mascara e voilà ragazzi ero indecisa se metto le ciglia finte o meno invece ho optato per tanto 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 mascara sia sopra che sotto a proposito come sempre vi lascio tutto scritto in infobox sopra ho messo il major pleasure di nabla mentre sotto ho messo un mascara waterproof io sto usando il 24 ore instant maxi volume waterproof di debora detto ciò adesso intensifico un attimo la parte illuminante la parte illuminante la parte luminosa al centro dell'occhio e utilizzo sempre lo stesso colore vedete che lo concentro proprio qui proprio al centro della palpebra senza andare a sovrastare troppo il rosa vedrete che sotto le luci artificiali la luce del tramonto insomma se vi fanno delle foto l'effetto sarà una mina una mina non so se metterlo anche all'angolo interno o optare per qualcos'altro quindi stiamo sempre parlando di questo ombretto qui lo prendo con un pennello più piccolo tipo così lo metto qua ma siccome lo voglio comunque distanziare o comunque distinguere da questo qui sempre lo stesso pennello dov'è il mio illuminante di becca vanilla quartz che è un bellissimo illuminante che guardate ha dei riflessi come si chiamano un po' rosati quindi lo prendo e lo metto sopra applico un po' di bronzer questo è il luminous bronze light non si apre di hourglass lo applico con un pennello due fibre come blush applico beloved di namla e come illuminante dicevamo quello di becca e come illuminante dicevamo quello di becca contorno le labbra con la matita di diego dalla palma la numero 71 e come rossetto metto questo qui che è il viva glam numero 2 di mac che ha questo colore qui ora come sempre fisso tutto quanto uso il dewy set di anastasia buona guela sorpresa cambio look cambio tutto perché ragazzi sto ancora imparando perdonatemi ma per qualche disguido che non ho capito non mi ha registrato l'outro del video ma che ce ne frega ma lo rifacciamo non c'è problema io spero tantissimo che il make up vi sia piaciuto e volevo parlarvi appunto un attimo della palette di natasha denona appunto la lila laila palette che secondo me è veramente top io prima di provare i colori non capivo cioè in generale di natasha denona non capivo il prezzo sinceramente e infatti ne avevo parlato anche con lei perché l'ho intervistata qualche mese fa e trovate l'intervista che le ho fatto sul mio instagram tv su instagram il mio instagram tv trovate l'intervista ed è anche sottotitolata se non capite bene l'inglese le ho proprio chiesto ma perché le tue palette costano così tanto ed in effetti lei mi ha dato una risposta esaustiva che cioè io ho capito perché avevo provato il prodotto no la qualità è eccelsa ha degli ingredienti e una concentrazione di pigmento elevatissima ed in effetti ragazzi cioè provare per credere è questo quello che dico prima mi sembrava eccessiva ho provato il come si dice ho provato il prodotto varie palette e devo dire che spaccano veramente anche perché vi ripeto penso mai nella mia vita di aver visto un viola così tanto un viola shimmer così tanto performante senza base grassa dello stesso colore ragazzi è raro ovviamente costano tanto ce n'è però un po' per tutte le tasche perché ci sono anche queste qui ad esempio queste qua le mini questa è la mini sunset palette questa qui è la mini nude palette quindi diciamo che cioè se non volete prendere un palettone così ci sono delle alternative se volete provare la qualità del prodotto che è molto alta la palette non è una palette completa nel senso che cioè manca un nero manca un panna insomma sì figa però non è completissima sapete che dico sempre che una palette deve essere completa credo di aver capito che Natasha Denona si concentri più che altro sulla gamma colore quindi qui abbiamo una palette Laila appunto Lila tutta con questi toni qua poi un panna un nero per intensificare eccetera ce l'abbiamo sparso per tutte le palette quindi io penso che a lei non è che interessi fare una palette completa fra centomila miliardi di virgolette però le interessi fare qualcosa a gamma colore no quindi abbiamo la palette Lila abbiamo la sunrise che è quella che vi ho mostrato in intro vedete anche qui non abbiamo colori scuri tipo neri moroni scuri il colore più scuro è questo quindi però bellissima quindi niente questo è il mio ragionamento si è capito? spero ragazzi io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto che il make up vi sia piaciuto e niente non mi resta altro che augurarvi buone vacanze divertitevi ovunque voi andiate se ci andate se rimanete in città divertitevi e godetevi la città vuota se andate al mare fate tanti bagni mi raccomando la protezione solare vi prego montagna laghi città dove andate divertitevi ragazzi torniamo belli energici ci vediamo a fine mese qui su youtube se volete seguirmi nelle mie disavventure marittime seguitemi su instagram perché lì pubblicherò praticamente ogni giorno e vi racconterò quello che faccio quindi niente raga noi ci vediamo a fine mese inizio settembre carichi a pallettoni vi adoro pandemoni ciao buone vacanze buone vacanze buone vacanze